Passiamo invece agli altri due affreschi che ci sono. Insomma, San Domenico, la questione mariana che è raffigurata nell'altro lato. Sì, allora, una cosa in effetti interessante, allora, intanto sappiamo che questo è stato l'ultimo intervento di Trevisonno del ciclo, è datato e firmato al 1938, mentre gli altri due dipinti murali risalgono al 1933. E avendo fatto anche delle indagini sul materiale, sugli intonaci, di entrambi i dipinti, si è visto come è cambiato anche il materiale utilizzato una parte all'altra. Cinque anni di differenza. Cinque anni, sì, sì, mentre lì appunto, oltre alla calce, era polvere di marmo, qui invece erano delle sabbie vulcaniche oltre alla calce. e probabilmente, ecco, in cinque anni continuavano anche quelle che erano le sperimentazioni che Trevisonno comunque metteva in atto. Lei lo diceva prima, era uno che sperimentava. E, diciamo, anche qui c'è stato un degrado, anche qui diffuso per appunto uno sporco coeso sulle pellicole pittoriche. E poi c'erano, come anche, forse non l'ho detto per quanto riguarda il cenacolo, c'erano proprio dei segni di percolature dall'alto, probabilmente c'erano stati comunque delle infiltrazioni d'acqua dal tetto, che avevano quindi, appunto, provocato anche un imporimento della pellicola pittorica lungo le scie di percolature. L'intervento ancora più paziente, ancora più certosine. Sì, sì, perché poi appunto bisogna, poi ovviamente dopo il ciclo di pulitura, va anche, in effetti, fatto un intervento di adeguamento estetico. Poi, ancora, magari sono dei interventi di stuccatura, dove c'erano delle piccole mancanze. È stato un intervento, diciamo, come ogni intervento di restauro, per carità. Però, visto anche le grandi dimensioni e la necessità poi di dare comunque un'unità di lettura, diciamo, molto paziente. Da un punto di vista qualitativo, diciamo, di tecnica, questi altri due affreschi, che caratteristiche hanno? Effettivamente hanno, come da un punto di vista coloristico, i due dipinti della Cappella del Rosario hanno colori più chiari. Mentre, in effetti, quelli del Sacramento c'è un contrasto ed è giocato più su toni più bassi del Bruno, comunque, in effetti, più scuri. Questi hanno, i due dipinti della Cappella del Rosario, hanno una luce maggiore. Però, ecco, il livello è altissimo in tutti e tre i casi, ecco. Anche perché, comunque, Trivisonno ha voluto dare anche un'unità alla totalità dell'intervento che ha effettuato in cattedrale. Quando la chiesa fu ricostruita dopo il terremoto del 1805, il re di Napoli, Francesco I di Bourbone, donò 14 opere che arrivarono a Campobasso il 14 ottobre del 1829, in occasione della riapertura. Furono donate anche altre. Tra le cose più antiche che ci sono in questa chiesa, precedenti al 1927, addirittura risalenti ancora prima, c'è questo quadro, questo quadro è uno, una pala d'altare. Questa opera l'abbiamo ricollocata da non molto tempo e faceva parte di quella serie di opere d'arte che il re di Napoli donò alla chiesa di Campobasso, alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dopo la ricostruzione, dopo il terremoto del 1805. Quindi, diciamo che è l'unica opera sopravvissuta perché quando poi la chiesa fu trasformata in caserma, molte opere scomparvero e non si ha più traccia. Abbiamo l'elenco delle opere donate, ma non abbiamo le opere. È molto particolare questa pala, perché si vedono questi angioletti pompieri. Sì, è dedicata alla Madonna di Costantinopoli e la città rappresentata è proprio la città di Costantinopoli che subisce un incendio tra le tante traversie che ha subito nei secoli e questi angeli che indicano la protezione celeste, sia di Maria che attraverso quest'opera miracolosa degli angeli. accanto ci sono i Santi Pietro e Giovanni il Battista, di cui c'è anche il piccolo agnello che è sempre il simbolo di San Giovanni. E poi ci sono gli angeli sopra che hanno degli strumenti musicali che sono proprio anche segno dell'epoca in cui è stato fatto il quadro, cioè sicuramente il XVII secolo, forse anche il XVI. Quindi abbiamo un'opera di notevole pregio. E' stata restaurata anche questa? E' stata restaurata e è stata ricollocata poco dopo che nel 2011, che sono diventato parroco io, era nel deposito della sovrintendenza, poi è stato restaurato ed è stato ricollocato in questa posizione in chiesa. Poi ci sono i due quadri, le due tele, insomma, che voi avete anche restaurato, che sono importanti per motivi probabilmente anche diversi, comunque hanno una datazione diversa. Partiamo da quella che è la Maddalena, La Maddalena, che è un quadro, mi diceva, del 1700. Che tipo di intervento e che tipo di opera è? E da dove arriva? Sì, allora, La Maddalena Penitente fa parte di quella serie di quadri, di dipinti, di arredi, diciamo, per la chiesa riaperta al culto nel 1829, che furono donati, appunto, alla cattedrale di Campobasso e provenivano dal deposito del Real Museo Borbonico di Napoli. Quindi erano tutti quei dipinti che nel tempo erano stati a seguito delle soppressioni napoleoniche che venivano da conventi e monasteri soppressi. e quindi circa 14 dipinti vennero donati alla cattedrale di Campobasso e tra questi c'era anche una Maddalena, però molto probabilmente, e questo è stato messo in evidenza in uno studio di qualche anno fa, non dovrebbe essere la stessa Maddalena che, appunto, vediamo adesso che è soggetto del restauro, perché, diciamo, dai documenti che sono stati ritrovati in un combacia sia l'iconografia, perché là si parla di una Maddalena portata in volo dai santi, dagli angeli, e né per le misure. E quindi, diciamo, approfondendo la ricerca, si è visto come probabilmente questa Maddalena venne rifiutata dal clero locale perché, appunto, la Maddalena aveva, diciamo, Erain. Non era gradito per questo. E quindi fu chiesto... Un po' troppo scoperta, diciamo così. Se vediamo il quadro, infatti, è così. E quindi, ecco, fu chiesto... Venne, in effetti, restituita e al posto di questa arrivò un'altra Maddalena che probabilmente è stata... Poi è stata per un po' di tempo ha ornato la chiesetta della Maddalena che si trovava qui a Via dei Ferrari. Sì, che adesso è sconsacrata. Adesso è sconsacrata. 30 più o meno. E forse proprio per questo motivo, diciamo, la Maddalena è sopravvissuta al periodo buio di fine Ottocento. Quando qui c'erano anche i soldati, insomma. E quando appunto molti di quei dipinti, diciamo, sono dispersi. Adesso non sono stati più, diciamo, ritrovati, ecco. Da un punto di vista qualitativo, quel dipinto, insomma, quella tela, che caratteristiche ha della Maddalena? Allora, il... Di scuola napoletana, ovviamente. Sì, 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 sì. Allora, è stato probabilmente individuato anche quello che deve essere il prototipo di questa... della raffigurazione della Maddalena. È un altro soggetto, la Galatea del De Matteis, un importante artista di scuola napoletana della fine del Seicento, che ripropone quindi la Galatea. Nel dipinto, appunto, la Galatea c'è la Galatea che ha le stesse... la stessa posa della Maddalena. E faceva... la Maddalena faceva parte però di un dipinto più grande. Cioè, la parte destra, in qualche modo, non c'è più, perché probabilmente era stata... era stata in qualche... tagliata, forse già quando arrivò qui a Campobasso, perché appunto questo prototipo della Galatea continua sulla parte destra. Ma questo... ma questo è evidente anche ad un'attenta osservazione della nostra Maddalena, perché proprio c'è... c'è anche il personaggio a fianco, che è un diavoletto, che guarda proprio verso la propria sinistra e quindi presuppone che la figurazione continuasse da quel lato. Qui, proprio nella zona, una volta c'era anche la chiesa della Maddalena, ma questa tela probabilmente lo stesso potrebbe venire da altre fonti anche al di fuori della città di Campobasso, sempre nel contesto delle opere che sono arrivate da Napoli o dintorno. Era in una stanza interna, adesso dovremmo pensare di collocarla in qualche parete della cattedrale, vedremo. Anche quella è stata restaurata? Sì, contestualmente, insieme con il soggetto della Trinità, che è in corona la Vergine, che sarà collocato in Zagrestia, come era prima. Quindi bisognerà trovare una collocazione qui per quest'altra tela. Speriamo a più presto, così la vedremo.